Manediction per le feintine, palla 2, Ferrari, secca, prova lei, segna, il primo ci si butta, c'è un placcaggio di Johnson che non viene fischiato, intanto dall'altra parte si prende la tripla, parte corta, parte smorto, prova ad andare, cerca il fallo, non lo prende ma si prende i suoi primi due punti, Peresson la tripla, solo retina, due minuti dal fine del primo quarto, ora palla, balla ed entra, scambio con Ciglianovic, ora Spinelli, in piena velocità Peresson, trovaci Janovic dall'angolo, è libera e segna, tripla importante, Ferrari prova ad accentrarsi, allarga, vediamo la tripla, da 2, da 2, 9 punti, cost to cost, Dixon di fisico, poi l'appoggia morbida, però c'è Secca, che recupera, ora Ferrari, trova libera sotto Johnson, eh, eh sì, ora, un tiro morbido, morto per Dixon, in mezzo a 2, trova Ciglianovic, il cesto, dall'angolo, si butta dentro con un ottimo movimento, Peresson, 5 per il tiro, tagliamento, si prende la tripla e segna, eh, flamoroso, il tripudio, poi si accentra da sola la pallombella per Johnson, c'è il contrasto con la stessa Secca, la brucia nel movimento e poi segna, Giulia, ora il passaggio di tagliamento, d'altra parte, smorto per Johnson, ancora smorto, che segna il suo secondo, Giulia, il tiro intanto, il canestro spettacolare di mafia, è in bonus, ma, eh, diciamo che, si può perdere, stasera, smorto intanto, ha segnato Dixon, sotto, canestro e fallo, prova a palleggiare, cerca l'assist per Ciglianovic, il canestro, spinelli per tagliamento, che trova, Brozman libera, infatti, morto, che prova ad andare contro tagliamento, un bel canestro, sicuramente caldo questa sera, Carlo, eh, come non si vedeva da un po' di tempo. Fottolicchio, ora smorto, segna, ministra, trova, spinelli, tagliamento, la tripla e segna! Ficcati 50 secondi nel quarto quarto, più 14, Fottolicchio si prende, la tripla, e il fallo, mento, la palla è sotto per Dixon, che segna! Johnson mo- Tagliamento, Dixon! L'applauso di tutte le giocatrici, 26 secondi alla fine! Tutto!